Per la prima volta il Giro d'Italia farà le prime quattro tappe in un'unica regione, la Liguria, e questo accadrà dal 9 al 13 maggio. Una vetrina di grande prestigio per tutto il territorio e in particolare per la pista ciclabile del Ponente Ligure, che sarà teatro del cronoprologo iniziale tra San Lorenzo al Mare e Sanremo. Da lunedì 4 maggio arriveranno nella nostra regione già i primi avamposti della Carovana Rosa per assicurare un'ottimale preparazione della competizione, quindi le squadre con i rispettivi atleti, dirigenti, massaggiatori e staff, circa 2000 persone in tutto. I numeri in base a quelli registrati al Giro d'Italia dello scorso anno parlano di 171 paesi collegati, 2.910 ore di programmazione, 380 milioni di persone raggiunte globalmente, 1.281 giornalisti e 524 fotografi per un totale di 1.805 accrediti, 349 quotidiani tra nazionali ed internazionali, 41 agenzie, 200 siti internet, 75 televisioni locali ed altre 30 tra italiane e straniere, 10 riviste italiane, 40 internazionali, 55 radio. Nel complesso su internet sono state viste 2.300.000 pagine ogni giorno, con più di un miliardo di utenti unici e 1.200.000 persone collegate tramite i social network. In televisione, in tutto il mondo, i telespettatori sono stati quasi 12 milioni. Insomma, numeri da capogiro ed è proprio per questo che la Liguria non si dovrà far trovare impreparata e si dovrà invece mostrare nella maniera migliore possibile per ottenere dalla Corsa Rosa una vetrina d'eccellenza su cui basare la propria promozione turistica.